Stai girata un po' in là, questo non va bene, muoviti piano tu, sennò ci viene il lavoro, non si riprisse, lo rifaccio, non va ancora bene, ok, così è corretto, ok, così va bene, adesso prendo la bottiglia, lo metto dentro, si, questo, lo blocco, tolgo la bottiglia, aspetta, aspetta, due o tre millimetri su, ok, questa è una, si, adesso ne metto un'altra, si, tanto se anche tu vedi il display è uguale, si, non si vede, questa differenza si corregge poi con il valore, ok, ti faccio un'altra, per cui, facciamo vedere solo che, cioè quando si toglie la bottiglia così, il ciclo non parte, perché alcuni si può togliere senza problemi, se invece si va a fine corsa, poi si lascia andare, allora il ciclo parte, ok, 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 e